E sempre qui in Piazza Duomo ci siamo spostati di qualche metro, siamo con Francesco Attanasio, uno dei componenti del motoclub dell'Aquila dei Vigili del Fuoco. Quest'anno un raduno che si perpetra dal 2010, ma quest'anno in maniera ancora più grande e complessa, ci vuole spiegare perché? Sì, dunque, allora questo raduno, questo in realtà è un incontro che è stato inventato dalla sezione di Terni del motoclub nazionale dei Vigili del Fuoco, che ogni anno dal 2010 ci viene a trovare. Questa giornata di oggi, tra l'altro, è particolare perché vede la sezione di Terni, di Rieti, di Perugia, di Ancona, di Pescara, oltre alla nostra, e ci sono tutte quante venute a trovare e hanno portato per l'occasione la moto che vediamo qui. A destra la moto di un vostro collega che ha operato qui il 6 aprile 2009 e che è scomparso recentemente. Questo povero collega è morto il 14 gennaio scorso. Fortunatamente qualcuno si è preso il carico di riprendere la sua moto, comunque sia di ritargarla a VF, di allestirla come vedete, come se fosse una moto a tutti gli effetti, Vigili del Fuoco e tale è, e oggi i colleghi di Ancona e di Macerata l'hanno scortata e l'hanno portata qui. E l'abbiamo scortata anche noi dalla Fontana Minosa qui in piazza come apripista.